L'influenza russa sulle elezioni US è una bufala. E lo dice lo stratega Dillary, non si compra la casa bianca con 100 mila dollari di annunci su Facebook. La Clinton ha raccolto 1,4 miliardi, Trump 1, nel 1996 il governo cinese pompò centinaia di migliaia di dollari nella rielezione di Bill Clinton. Ci furono indagini, si risolsero in un nulla di fatto e la vita andò avanti. Il Clinton si è costruita un alibi al quale forse crede sul serio, è stata tutta colpa di Vladimir Putin. Non fosse stato per l'intromissione dei russi nelle elezioni presidenziali americane, per i soldi del Cremlino, per gli hacker, per i falsi account creati su Facebook e gli altri social network, adesso alla casa bianca ci sarebbe lei, non Donald Trump. Ci ha riempito un libro, con questa ossessione. Nelle pagine fresche di stampa di VATAP e NED, cosa è successo, i russi sono ovunque. Ora che ci hanno infettato e hanno visto come sono deboli le nostre difese, continueranno a farlo. Prenderanno di mire nostri amici ed alleati. Il loro scopo finale è minare, forse addirittura distruggere, la stessa democrazia occidentale. Molti sono con lei, credere che Trump sia stato messo lì da Putin è l'ultima consolazione rimasta ai democratici. Anche tra i supporter della Clinton, però, c'è chi si è rotto le scatole del mito della vittoria negata. E almeno uno di loro non è un elettore qualunque. Si chiama Mark Penn, ha 63 anni ed è stato lo stratega a capo della campagna elettorale con cui nel 1996 Bill vinse il secondo mandato alla Casa Bianca, della campagna con cui Hillary ottenne il seggio al Senato nel 2000 e di quella che perse otto anni dopo alle primarie del Partito Democratico, schiantandosi contro Barack Obama, che divenne presidente. Proprio per questo motivo, l'articolo che ha scritto per il Wall Street Journal, intitolato Non puoi comprare la presidenza con 100 mila dollari, è stato un colpo al cuore dei nemici di Trump. . Le fake news sulle fake news sono praticamente infinite, sostiene Penn, e anche se non collega l'ultimo anello, cosa intenda dire è chiaro, la vera spacciatrice di fake, la più grossa sparatrice di bufale, in questo caso è Hillary. . 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